le multe si date, le multe si date dai fammi vedere chi è che vi manda a fare le multe? il sindaco? al sindaco va? al sindaco vi manda a fare le multe? quando dice a tutti di stare a casa voi però vi manda in giro a fare le multe ma vergognate, andate a casa senza mascherine, giusto? il sindaco vi manda? bravi, eroica questo è il sindaco votate in sala votate in sala votate in sala